Comincia ora il secondo tempo. De Vincenis, occhio al contrasto. Un fallo sciocco che concede una posizione davvero invitante. Palla sulla barriera. A spazio, prova! Arriva l'intervento del direttore di gara. Il portiere di pugno a lontana. Ottima la chiusura difensiva. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Messi. Schweinsteiger. Tocco di ritorno. Ruba bene il pallone sulla fascia. De Vincenis. Abitro che assegna il calcio di punizione. C'è il tocco, la deviazione. Palla in alto. Schweinsteiger. Arbitro che qui potrebbe tirare fuori il cartellino. E l'arbitro estrae il cartellino. Giallo, giallo. C'era da aspettarselo. Schweinsteiger. Messi. Perde palla. Schweinsteiger. Wolkoth. Palla che finisce in out. Schweinsteiger. Demicenis. Si avvicina all'area. Può metterla in mezzo. Prova il cross. Difrezione capisce tutto sulla verticalizzazione. Arbitro che ferma il gioco. Arbitro senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo. Si, molto vicino al rosso. Non ha avuto dubbi l'arbitro dopo la norma del vantaggio è arrivata l'ammunizione. L'arbitro non ha fermato subito il gioco ma la prima occasione è intervenuto. Una grande interpretazione. Prova con la testa. Hanno annullato il vantaggio degli avversari. Ha sfruttato veramente al meglio questo cross. Si, ha scelto bene il tempo. Ha messo a dove voleva. Questo giocatore che va marcato con estrema attenzione. Pericolosissimo nel gioco aereo. Match davvero spettacolare. Attenzione! E qui avrebbero certamente potuto portarsi in vantaggio. Un'occhiata alla grafica. C'è sostanziale equilibrio nel possesso di palla. Esatto. Due modelli di gioco sono alla pari. Spezzato bene qui il gioco avversario. Ha recuperato palla nella zona mediana del canto. Lo ha lasciato andare via. Prova! Attenzione il pallone è lì. Schweinsteiger. C'è grande pressione su di lui. E l'arbitro fischia. È calcio di rigore. Direttore di gara che fischia un fallo per questo intervento scorretto. Direi che ci sta tutto. Mi piace l'arbitro. Giusto intervenire. Il giocatore aveva calcolato male il tempo dell'entrata. Finendo per rovinare addosso all'avversario. Freddissimo la mette dentro. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Precisa conclusione. Il potere non poteva farci nulla. Siamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3 a 2. Messi. Pericolo. Non trattiene. Occhio alla possibilità. Grande intervento. Sventa il pericolo. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bolgia. Il pubblico. Occhio a stiro. È arrivata la rete che consente di riacciuffare la parità. Ha calcolato tempo e spazio. Ha controllato il fallone. E ha infilato. È un gol bello questo. Di precisione. È andato deciso. Non c'è stato nulla da fare per il coppiero. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Sbaglia il passaggio. Ecco. C'è della tush. La rimessa laterale. Non so cosa volesse fare. Certamente. Acco fresca. Palla in fallo laterale. Walcott. Messi. Magnifica chiusura di Percima. Occhio al traversone. C'è il traversone. Messi. Non è riuscito a sbloccare la partita. Un gran peccato per lui. Sì, veramente un peccato, Pier. Si è coordinato in maniera perfetta. Meritava qualcosa di più. Ancora 120 secondi alla fine. Affermato all'ultimo. Quando tutto sembrava perduto, l'azione avversaria qui è stato bravissimo. Eh sì, non c'erano più speranze qui. Buon intervento difensivo. Hanno intervento l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Deve aver sentito tirare il muscolo. Si è fermato a terra. Schweinsteiger. Sembra poco lucido. Basta così, arriva il fischio dell'arbitro. E oggi è un brutto giorno per questa squadra. È arrivata l'aritmetica certezza della retrocessione. E i giocatori escono dal campo a testa bassa. Dovranno affrontare il prossimo campionato con la giusta mentalità. Per affrontare una risalita immediata. Non facile. Atenzione, rete! Grazie!